la regola tu invece chi sei? aspetta per un'altra questa da Anna la sorella di Elsa qui invece abbiamo due fratellini un'altra mercoledì e un superman i nomi? Martina e? e Gianluca abbiamo fatto la foto? ok? ok no sono amica non ci preoccupiamo mamma mia quanto è bella questa macchina allora posso? vai allora c'è un superman che è andato a fare quindi deve scappare l'hanno già chiamato come ti chiami? Michele Michele sei pronto? sì sì per salvare il mondo salva fuori io dai dai veloce veloce ciao ciao Michele qui un pochino le unghiette bellissime queste unghie senti Chiara quanti anni hai? sì la fai una poesia? ora c'è da presentare un quartetto di ormai mercoledì disputano ovunque allora mercoledì è un quartetto il nome Elena scendere a mano Carme Giorgia Maria Pia ma voi il balletto lo conoscete? è un po' di scintà in dentro però è pericoloso qui grazie Ale allora Nello ma guarda che bel personaggio che abbiamo qua come si chiama questo personaggio? guarda qua che personaggio è? ma lo sai chi è? è un Minions e come parlano i Minions? come parlano i Minions? ma perché parlano? come parlano i Minions? come parlano i Minions? ma parlano così? no devo fare qualche allora allora fra poco dobbiamo fare vabbè più tardi dobbiamo fare lo spazio per far passare la carrozza devi passare ora sì no ma penso di no quando scenderà ok allora continuiamo così continuiamo noi andiamo all'ultimo la cucinetta del quartetto così vanno vanno passi a fondo quando facerà signora perché ci ha questa e quindi la principessa ti puoi spostare un po' ti puoi spostare un po' tu già hai detto il nome? hai già detto il nome? no vieni più qua come ti chiami? gioia la principessa indiana che concure questo quartetto grazie ragazze allora poi c'è infila 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 Sandro Sandro sei vestito indovinato pulcinella pulcinella la pulcinella la nostra maschera Giulio oh la pulcinella la maschera napoletana per antolomazia eh senti Sandro quanti anni hai? sette sette sai una poesia? no no ma come? mamma ti ha guardato ma come? non la fai la poesia? quando c'è una maschera la fai la poesia? mamma non la sa se l'hai dimenticata non fai niente Sandro me la dici lì anno prossimo stai tranquillo Anna scusami scusami Raffaele è scappato di nuovo no Raffaele un massaggio Raffaele ho bisogno di un massaggio Raffaele ok trovato trovato Raffaele è tutto a posto ok 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 va bene Raffaele attaccami con la Raffaele ora qui abbiamo una Rock Girl aspetta com'è il nome? Eva ma sei anche la tua band? per il momento la proverai dai facci un bel giro e poi dai tutti gli elementi mercoledì Angela mercoledì Angela allora veramente? allora qui abbiamo Gianni ma quanto è bella Joy quant'è ne hai Joy? io non vedo come si dice questo 5 5 da cosa sei vestita Joy? cioè guarda non è mai voluto c'è no non è scendi non vuoi fare il salto no scendi per te sale ciao tesoro c'è la maestra la dove? allora Nello allora qui abbiamo un H della notte un personaggio misterioso Nello scusami se ti interrompo dopo sul palco vorrei vedere i vari adulti che hanno avuto il coraggio di vestirsi eh sì li vorrei vedere qua sopra ma non posso non